Assaggio, eh? Oggi vado a fare una ricetta che credo abbia 12 milioni di versioni completamente diverse, ma alcune veramente talmente diverse da dire non è possibile che siano la stessa ricetta, ma non è importante. Intanto, che ricetta è? La pasta alla carrettiera. Io la faccio in questo modo e secondo me è molto buona. Cominciamo a farla. Padella, ci metto un bel giro d'olio, affetto l'aglio e lo aggiungo nella padella con l'olio. Ancora non ho acceso il fuoco. Metto l'aglio Poi basilico e prezzemolo in una bella quantità e vado a tritare Aggiungo il trito Una bella presa di origano e accendo il fuoco Pomodori Taglio i pomodori a pezzettini E metto i pomodori nel trito nella padella Ora faccio andare e nel frattempo preparo il sedano Ci siamo Qui praticamente è tutto pronto L'acqua sta bollendo Metto il sale E metto la pasta Mezze penne Però scegliete il formato che vi piace di più La pasta è a posto Spengo il fuoco Il sughetto Va già bene così E ci vado a mettere il sedano Quindi sedano messo a fuoco spento Ora si scalda leggermente Però deve rimanere bello croccante Una bella girata di sale E ora si aspetta che sia pronta la pasta Ok Accendo il fuoco E ora scolo in anticipo la pasta Così la finiamo di cuocere in questo sughettino Non dovrebbe essere necessario Aggiungere assolutamente l'acqua Perché i pomodori cedono un po' di liquido Ma se dovesse essere necessario Mettetela un pochino Perché secca questa non deve venire Basta Finita È il momento Più importante Ovvero quello dell'assaggio Ecco qua Ora Parmigiano E messo così Ma potete metterlo anche come volete È anche grattugiato Però così Alzo perché Se volete Ma ci sta bene Un pochino d'olio E poi si gira tutto E si assaggia Il profumo è assolutamente fantastico Sapete perché ho preso il cucchiaio? Perché con la forchetta Avrei dovuto cominciare a rincorrere Tutte le mezze penne E non mandava Assaggio La semplicità E la bontà fatta pasta Davvero Cioè Questa pasta È unica Ma quanti ingredienti So? Pochi Pochissimi Eppure Viene fuori un piatto Che è straordinario Vabbè Vado Ma mi porto il piatto Alla prossima Alla prossima